Ciao a tutti, oggi vi parlerò di qualcosa che non è trash, dai. Un po' di cultura la si deve fare. Allora, purtroppo c'è uno stereotipo della letteratura giapponese che a me non piace molto, anche perché a me la letteratura giapponese piace assai. Lo stereotipo un po' che gira è la letteratura giapponese noiosa, parla sempre di zen, geisha, samurai e cose lontane dalla nostra cultura, oppure al contrario un'esplosione di sangue e tette. Sì, allora, ci sono questi due fronti, ma diciamo che ogni autore ha la sua visione del mondo, ogni autore scrive in modo totalmente diverso. E poi, anche se molti di voi mi lincerete, io trovo la letteratura americana mille volte più lenta, noiosa, di quella asiatica. Ma forse è un problema mio. Io, ad esempio, quando leggo un autore americano, salvo eccezioni, mi cala la palpebra a volte, anche se il libro alla fine mi piace tantissimo. Ma, non lo so, vedo molto più lontana la cultura americana rispetto a quella giapponese, su certe cose, alla mia sensibilità a quello che provo, insomma. Ma, ad esempio, letteratura giapponese, non lo so, trovi la Ruki Murakami, super onirico, inspiegabile, molto dolce. Ma trovi anche Ryu Murakami, che invece è pulp, è grezzo. Poi trovi Barona Yoshimoto, che lei è tutta carina, sulle cose carine, le donnine che fanno giardinaggio, tutte queste cose belle. E poi trovi Koji Suzuki, che invece scrive horror, è considerato lo Stephen King giapponese. Insomma, c'è un bel potpurri di roba, non ci fermiamo sullo stereotipo, non è vero. E poi ne approfitto, visto che l'ho appena terminato, per parlarvi di Diario di un vecchio pazzo, di Junichiro Tanizaki. Junichiro Tanizaki, che è un autore famosissimo, almeno per chi mastica un pochino di letteratura asiatica, è un autore molto importante, però diciamo che, al di là di chi legge tanto, non è mai un autore approfondito da noi. E dire che è molto simpatico, è molto carino da Nizaki. Allora, devo ammettere che questo libro, io vi parlo di questo perché l'ho appena terminato, dopo essermi sorbito, ma è di là, ma è sì. Dovevo riprendermi. Però non è il migliore che ha scritto. È molto carino, è molto simpatico, però ne ha scritti di meglio. A questo proposito vi consiglierei, così iniziamo già ad introdurre l'autore, di leggere due libri che invece ho amato molto. E sono un po' le due diverse anime del suo modo di scrivere, delle sue storie. Da una parte c'è la morbosità, se vi piacciono i thriller, i gialli, ve lo consiglio perché è un bel giallo, un tanto di colpo di scena molto particolare, che è Morbose Fantasie. Se invece preferite dei libri più leggeri, più ironici, molto che fanno ridere, perché io ho riso tanto, vi consiglio La Gatta, che è una storia assurda. a me è piaciuta tantissimo di una donna che tratta di questa donna che è gelosa della gatta del marito perché apparteneva alla sua ex fidanzata. E allora inizia a sclerare. Qual è la tematica? Quali sono le tematiche principali di Tani Zaki? Allora, tra le tante, che poi secondo me va a letto, però tra le tante, sicuramente l'incomunicabilità tra i sessi, tra l'uomo e la donna, perché la grande ossessione di Tani Zaki sono le donne. Cioè è un po' un Bukowski asiatico, anche se è più elegante, meno cacciarone, meno rozzo, è un senso buono rozzo Bukowski, e non in senso negativo. A me Bukowski piace molto. È un po' più elegante, più asiatico in sostanza, però alla fine è un Bukowski Tani Zaki. È uno che riesce a togliersi il chiodo fisso delle donne, ma soprattutto ha un suo feticismo che compare molto spesso, che è il feticismo dei piedi. Lui è ossessionato dalla bellezza dei piedi, un po' come Tarantino, ecco. E racconta queste storie di incomunicabilità tra l'uomo e la donna in un modo molto simpatico, anche nelle sue storie più macabre, morbose, tipo morbose fantasie, che ripeto è un thriller. Infatti è strano all'interno della sua bibliografia. Lo fa in modo giocoso. Ad esempio ci sono autori anche cinematografici che lo trattano in modo pesante, tipo Antonioni, no? Che a me piace tanto. Quasi tutti lo trattano in modo pesante, è sto argomento. Lui invece no, lui è ironico, lui è leggiadro, fa ridere, è autoironico, è divertente. E le donne al centro delle sue narrazioni sono le fan fatale, sono delle donne super emancipate e consideriamo che siamo comunque nella prima metà del Novecento, perché Tani Zaki è nato nel 1886 ed è morto nel 65. Quindi molto avanti, delle donne molto emancipate, delle donne che non perdonano niente, delle donne cattive, anche ma nel senso buono del termine, cioè dominatrici, mentre l'uomo è una mammoletta. Nei romanzi di Tani Zaki è sempre una mammoletta, almeno in quelli che ho letto. E si fanno dominare. Ma di cosa tratta Diario di un Vecchio Pazzo? Diario di un Vecchio Pazzo è un diario, appunto, di questo signore, questo, che poi è scritto, è uno dei suoi ultimi romanzi, perché è del 61. Quindi Tani Zaki era veramente in età avanzata, quasi demenza senile, e probabilmente è un'autoparodia, è un romanzo autoironico sulla vecchiaia. Per quanto non sia il suo migliore, infatti lo reputo un romanzo carino, ma non quello da cui partire per conoscere l'autore, a me ha divertito molto, molto divertente. È un romanzo sulla vecchiaia, sulla paura della morte, ma in tono divertentissimo. Ma mi sto ripetendo, scusate, non so che cosa mi succede oggi. E ovviamente c'è una donna, c'è una donna fan fatale, dominante, e questa donna è la nuora del protagonista, quindi tabù che non esistono. Infatti Tani Zaki è passato alla storia nella letteratura giapponese, anche perché ogni suo romanzo creava scandalo. Ma io penso che se fosse stato italiano l'avrebbero linciato in pubblica piazza, in giapponese, giusto uno scandaletto, e basta. Cioè, alla fine... E poi tra l'altro, curiosità, parentesi, dal suo romanzo più famoso che è La Chiave, ne ha tratto un film a Tinto Brass, un film omonimo. Vabbè. Qua torniamo sul trash. Non riesco a non parlare di trash anche quando voglio parlare di libri seri. Cosa succede? Lui, anche se è impotente, anche se è in punto di morte, perché c'è un po' di acciacchi, questo povero vecchio, cioè non si muove, soffre d'artrite, lui è giovincello dentro, lui vuole fare i grandi, i big parties, no? Con le signorine, va a teatro, guarda le signorine, no? E allora lui sogna comunque una vita, diciamo, libertina, perché lui è libertino, finché non inizia ad ossessionarsi con la nuora, cioè lì dici what the fuck, ma soprattutto con i piedi della nuora, perché la nuora, diciamo che non apprezza, essendo anche giovane ed essendoci un legame di parentela, non apprezza i corteggiamenti del vecchio, ma lo sfrutta, decide di stare per metà al gioco per ottenere dei favori, ad esempio lui le regala questo anello con una pietra fantastica che gli costa tipo quattro anni di pensione e lei gli permette, si concede solo il suo piede o il ginocchio, prima il ginocchio poi il piede ma non si va mai oltre perché lei lo vuole sfruttare e basta, quindi lui deve accontentarsi dei piedi di lei, ancora una volta l'uomo che viene dominato da una dominatrice, però mette tenerezza perché è raccontato da sto povero vecchietto che sogna la gioventù, la giovinezza e si trova involontariamente immerso nella vecchiaia, il corpo che cambia, i dolori, le sofferenze, le sofferenze di non poter più fare certe cose, di non poter, l'accettazione della propria morte, quello, il romanzo parla di questo più che del dominio, del rapporto uomo e donna, sì, è una tematica fissa di Tanizaki ma secondo me l'autore voleva usare il suo topos ovvero la donna super bella e l'uomo mammoletta che le sta dietro per raccontare quello che l'autore provava veramente ovvero sto invecchiando, sto per morire, lo accetto con una risata, ne parlo ridendo, io sono felice della mia vita, sono felice delle mie dissolutezze, sono felice che i miei romanzi piacciano e ora voglio concluderla con questo tono molto leggero. il romanzo dicevo non è tra i suoi migliori però lo leggi in fretta perché è scritto allora Tanizaki scrive in modo super scorrevole non è come Kawabata premio Nobel del 64 che ha scritto un romanzo bellissimo ve lo consiglio La casa dalle belle addormentate Kawabata a me piace molto però va preso a piccole dosi cioè pesantino Tanizaki no Tanizaki è molto scorrevole divertente simpatico non lo so lo avrò detto migliaia di volte comunque è un modo per dirvi dai conoscete questo autore perché merita perché merita veramente vi fate due ghignate leggete buona letteratura quindi io vi consiglio appunto se volete puntare su una maggiormente sul lato comico dell'autore vi suggerisco La gatta altrimenti se preferite le storie torbide morbose fantasie e fatemi sapere se avete letto qualcosa di suo perché comunque non è proprio ignoto poco approfondito ma non ignoto se invece non avete mai letto qualcosa di suo e volete vi ho aiutato a scoprire un nuovo autore mi farebbe molto piacere sapere le vostre impressioni e ci vediamo alla prossima ciao ciao